E' meglio raga, sennò era un'agonia. Si, è un'agonia. Una cosa che bisogna imparare a fare, bisogna imparare a quittare le partite quando sono irrecuperabili. Perché svuota la viscica in live? E' un cac di rubinetto che è mezzo rotto e sembra che pisci, ma sto tanto sciacquando dei piatti. Cado comunque, sei molto multitasking. Mi faccio 757 cado alla volta. Mamma mia che buona. Mio fratello, di solito vado via a fare la spesa a sto giro, si è fatto lui questa sbatta qua. Mi ha portato a casa, si chiamano... La marca si chiama Adez, ed è della Coca Cola. E' tipo una bevanda... Questa qua è tipo acqua di cocco, bevanda vegetale raga... Acqua di? A base di urina di scimmia. Sì, spero di no, dio cane. Acqua estratta di cocco, riso, vabbè poi delle... Aromi, bla bla bla. Spero che non mi faccia venire il cagotto. Sicuro? Cerca ad otto. Anche stasera prima delle quattro non si va a letto. Ma chi è? No, stavo guardando ed è una... È una forma di vodka qua dove si crea una schiappe. E basta. Che fai qua! Che fai qua! Che fai qua! Ho ucciso il negro con le scarpe di gomma Se sei se desentrate mi disturba Non mi ha disturbo, è successivo con il tiro C'è me una marea E' un inghetto tranquillo e poi partiamo san niente Andiamo a prison, andiamo a prison Askel tu sei troppo una spettazione del centro Aspetta che non sento niente Andiamo a prison, andiamo a prison Sì ma te l'abbiamo detto 18 volte Perché ero di là in cucina Sono arrivato dopo, si vede che è perso un pezzo Anche questo tizio si è perso un pezzo Ma sei in macchina? Aspetta venga a prenderla Qua c'è pure una lente Sì ma a prison è stato un altro mondo Prendila C'è un bel po' di gente Tallo senti indietro Scendi scendi Ok vai Prendila 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 No raga raga se c'è gente Eh ma siamo già qui Sì noi boi Allora no vieni qui qui No vabbè no parole One shot one shot one shot Mi son fidato Mi son fidato No vai tranquillo E' una lente qui Mi son fidato Mi son fidato E' arrivato a scopo di terra Dato non è arrivato Prendiamo questa lente qua Vieni Eh raga grazie I found this if you need it Eh siamo divisi Nooo Your teammate is redeploying Stand by Paolo si scappa Eh il problema è che non so Come si scelta Raga c'è una altra via di uscita No i sotterranei Eh sì Ti fai i sotterranei e vai qua Io avessi l'elicottero Ti dovrei prendere Ma me l'hanno distrutto C'è gente qua C'è gente avanti a me Io non ti posso fare assolutamente niente Ma dai che figli di puttana Dov'è raga Eh raga io son morto Ma che è che mi tirai i missili Ballus Esci da Esci da questo lato Raga abbiamo i soldi Andiamo a store shop Raga Sono scappato innamoroso Ma Cioè era dietro di me Cioè era a fianco No Gli ho sparato C'è un camion Talus ti forse di niente Non potevo fare niente No no va bene Va bene Però quello che ti voglio dire È che se muore Non gliene frega un cazzo a nessuno Raga Meno Perfetto Sì Sì Per coso di voi Guardate cosa volete Sono a 2.000 metri da voi Buona Penarobe Becchio uno shop Mandaci un nuovo avv Io ti seguo perchè so che me lo lasci Bob Ma già ce l'ho io Lasciamola prendere Eh no, mi piace aprire le casse ma E' bello direi fallo se Sembra che non c'è peggio niente No Primalist, resta in one pound All supply box in one pound Oddio Eh ragazzi prendo l'alto, adesso ho già il gulag Va bene Eh si dai, buttali quei soldi Ah io stavo riprendendo il logout e l'avevo già preso Tanta roba grande Ah ci leviamo dal cazzo Vai Vieni cado Ci sono altre leanti Mi fanno potreste aspettare raga un attimo Leggero Ma vedi un po' la Tallus Ma dove cazzo hai? No ce l'ha fatta Tallus, è qui Vai Tallus, prendi un altro guaviello e non ci dai coglione Ah pure Si però Tallus ti avevo chiesto se ce lo mandavi mentre eri la Grado ancora di... Dove piacere? Mi piace questa scalinata Hai un disarmiamo Perché c'è una scalinata così a serbi Av olmaz Tira UAB Tira UAB Tira UAB La tiro io Si Bravino Eh sono qua in merda Duoi di persone Io violo al b Stanno facendo una conquista qua davanti Eh, sono a banca. No, ragazzi, sono a pompieri. No, sono a banca. No, sono a pompieri. Oh, lo vede? L'ho vista. Hanno un elicottero, però. Sentato. Oh, è morto uno. Dove si sono buttati? Su pompieri, sono scendendo. Beconizione attiva nelle vicinanze, dove? No, questi sono i bambiaroni, questi. Di fronte, di fronte. Oh, si è attuffato uno, craccato. Questo qua dietro c'è uno craccato. Quello di colore, personaggio di colore. Oh, ma c'è un sabato c'è. Uno è per aria, eh? A fuori, eh? Craccato. È che c'è un calcio. C'è uno là, eh? Uno là. Vai, esci, esci la testa. Esci la testa, pure te. Oh, craccato, voglia. Sul tetto bianco, due a terra. Però lì, è vera. Occhio lì. A terra, uno lì. Sto facendo panico. Raga, ricordatevi che c'è uno qua, da noi. Dove ho a tavolo? A terra? L'ho messo a terra, quello sopra di te. Se sali le scale lo secco. Dici? Sì. Sì, sono un po' lontano, rispetto a voi. Come la ricognizione? Buona, vetti ai botto il cazzo. T'ho asseccato, eh? C'è uno sopra di me, eh? Sono qua da me, ragazzi, a fare la ricognizione. Sono io, sono io. Se senti passato... No, no, ce n'è uno sopra di me, Tau. No, vabbè. No, vabbè, incazzo. Come si sali in sto posto di merda? Dove sei te, Max? Oh no, come da questa strada. Io sotto, eh? Usa il pink, Tullus. Non c'è nessuno, io... Axel, c'è la teca? Ma non c'è nessuno, Tullus. Eh, magari c'è Goss, ma... Cadu ha detto che c'era qualcuno fra di lui. Io sono sul tetto. Sì, ma si sono spostati. Axel, hai bisogno di una mano? Eh, non c'è uno. Ce n'è uno a 40 metri a ovest. Ok. Eh. Lo dovresti vedere col... No, non lo vedo. L'ho visto la mossa che fa. È qua sotto, credo. Lo vedo, sì, sì, sì. Guarda. Oh, ma lì c'è qualcuno. Zitto, zitto, zitto. Shh. Che faccio, Bob? Sta andando in safe, sta andando in safe. Vai a restarmi intanto, Tullus. Ah, no, non hai soldi. Sì. Finisci lo sciacallo, Tullus. 38 metri. Gas, moving. Questo era raro. Guarda lì, guarda lì. Non ho fatto. Non ne vedo più altre. Vieni, 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 vieni. Questa è la paura. Enemy UAV overhand. Ah, purino un po'. Servirebbe per un shop di okana. Ah, il piatto mi perde la punta con me. Oh, vai, 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 vai. E fa' ti anche a ghost. Non sono distanti, eh? Esconda qua. Heddy nid. Raga, se fa' ti un'imilio. All supply bars are here. Disregard, lad. All supply bars are here. All supply bars are here. Prima non miopi ing. Fai partire questo sciacallo, Tullus? No, non lo fai. No, non lo fai. No, non lo fai. Raga, ho un problema. Corri lento o esattiamo? No, ha 60 colpi. Oh, 120. 120 colpi. La cazza è sparata. Posso pingarvi? Allora, zero colpi dal... Gente qua davanti. È una cosa, Tullus, vai con Kadu. Mi ha comprato un approvvigionamento che io son senza. Mi ho pinga, c'è gente. Occhio, un elicottero. Lascia i soldi, lascia i soldi, Kadu, lascia i soldi. Compro una B, compro una B. L-I-G-A-V overhead. Tullus, comprei l'altro. E uno tiro. È un elicottero, eh? Se volete c'è un elicottero. Fermo un po', c'è gente qui sotto. Fermi. È riuscito a prendermi la roba? Sì, sì. Io mi son dato, raga, eh. Prendermi... Sì? Cosa vuoi? Un M5? Pieno. Come? Pieno carico. Prendimi pieno carico. Ok, ok, ok. Vieni, vieni qui da me. Troppo la munizione. Fermo, 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 fermo. Tieni. E poi dammi quello che riesci, non so cos'è. È una VN. LMG. Io sento tanti pass. Mark on the grid, let's go. Ah, devo farmi una plate. Callo. Vabbè. Le potevi, ah? Eh, me ne compro qua a sinistra. Traga, io non ho munizioni. Zio Pompeo. Allora, io non ho munizioni. Non ti fatico, se compra... Qui, io non ho... Allora? Allora, io non ho munizioni. Qua, 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 qua. Ok, qua. Qua, qua. Qua, qua. codio qua c'è gente oggi come lì c'è gente talus fai partire davanti c'è gente lì ok ah è il ping pingatelo pingatelo eh già pingatelo hai già pingato l'azzo no pingate proprio pingatelo più si grazie dimmi che c'è un cecchino dimmi che c'è un cecchino ho un chilo smg talus c'è la staccionzina per fare le munizioni mi sembra no dove? non lo so di solito è qua due cazzo quanto finiamo? più avanti più avanti più avanti è questa qua talus prendi una via e tiralo no non è neanche quella talus prendi una via e tiralo ok 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 ragazzi ha iniziato a farvi serpress anche eh ok ok oh 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 è un team da nostra sinistra non lo so non lo so però iniziate a farvi serpress andiamo a train station direi di si ma giriamo a sinistra giriamo a sinistra dai vabbè è stato un gioco di merda prendetevi raga 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 prendetevi di volato il self press al compino che abbiamo passato fate presto fate presto quello lì che abbiamo passato è quello veloce veloce prendetevi il self press veloci dai correte correte prendetevi il self press e una streak prendo nuovi vai thank you lasciate il rimasuglio lasciatelo qua vieni 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 prendi la cassa di munizioni se spoi no eh non puoi no no cazzo devi fare il terrestre c'è c'è qui qui ci hanno lasciato i sordi porco dio ti facevi il self press sto trovando una cazzo di munizione c'è c'ho 90 colpi guarda sono qui è pieno non le vedi non le vedi le appena passate le appena passate porco dio e cazzo ho avuto sfiga che il febri che sto avendo schifo ma poi quando abbiamo preso il secondo ascoltami mi ascoltami mi dio perchè quando abbiamo preso il suo volato non c'è preso piano capito che sta qui qua ah su vuole andare qua L.I. UAV overhead PAO LOCATION MARKED MOVE UP PAO LOCATION MARKED MOVE UP TAO MERDA PAO he ste I'm you're alive MAGGASSANING THERE LA GUARRA MAGGASSANING THERE MAGGASSANING I MEREAL MAGGASSANING THERE c'è stiamo facendo cos'è stiamo facendo c'è stiamo facendo c'è stiamo cercando di trovare una polizia eeeh Thallus vieni via vieni via di lì vieni via di lì ora ammazziamo qualcuno e lo trovi hai capito basta le munizioni c'è uno qua c'è uno qua raga usciamolo in quattro di bono c'è qualcuno deve salire da dietro però no è dentro il garagio c***o che stuprata di gruppo hai visto ora non rompi più il c***o no bisogna fare il cross è andata tutta a sinistra oh ma chi è davanti a noi oh sinistra pingate pingate ragazzi eh lo vedi c'è l'uav è dentro il bug ma ora esce eh sì per forza c***o 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 traccato c***o con precision datemi i soldi, datemi i soldi un grappolo ti rassalzi allora prenditi il precision no 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 prenditi la cassa di munizione lasciami la cassa di munizione lasciami la cassa di munizione e te prendi quella di piazza vieni vieni prendi quella di piazza Bob Bob prendi quella di piazza accessorio raga in goro c'è gente ragazzi compriamo uno av c'è uno stop arrivo andalà non li vedo non c'è più c'è uno qua raga dobbiamo cercare di andare qui a sinistra che save da cecchino o c'è una save da cecchino o no cecchino si raga li vedo si raga li vedo macchina a trofi a trofi sono scesi si pittati un botto oh 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 scusa ho dai non ci facciamo a troppo a troppo no porco da dove va eh a quelli della macchina qua c'è gente eh ci sono quelli della macchina raga venitevi dentro 10 film no vabbè io bestemmio che da fatto eccolo la no vabbè la macchina quando si non sei tu che stossisci sei tu no 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 è pieno di gente qui è pieno di gente qui l'ho l'ho hittato tutto è one shot non ci ci non ci ci con un cielo no restateci 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 si 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 E' potente ottenere il cuore! E' potente ottenere il cuore! E' potente ottenere il cuore! Non c'è uno! Bene! Sei proprio! Grazie! Veloce! Mi sono非常ima! Grazie! Raga c'è un altro eh, non vorrei dire una cazzata Non so, è nascita a prendere grandi cose Occhio a sinistra, sicuro a sinistra o a sottotitete Ringate della gente per favore, lo so che c'è l'AV ma non Raga raga, ci prendete un'arma a me, Bob, per favore Tipo a me un cecchino sarebbe troppo A me cosa ti pare? Io prendo il cecchino, io prendo il cecchino Ok, rispetto E invece lasciarmi un cecchino, Axel È un HDR Ma io c'ho due per WN, che ignorante sono Occhio, 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 un finger Occhio, lì, c'è la voce Perluttiamo da sinistra? Sì, bisogna C'era gente qua sopra, quindi occhio Lì è la voce, c'era gente, Axel Eccolo là, eccolo là, Axel Grande Che da lago che c'è C'è una cazza di macchina da blu Potete vedere se c'ha una maschera o un qualcosa Sì, sì, prendete quello che volete Raga, c'ha una carne No, prendete la calazza Non lo dire, non lo dire Raga, raga, raga Forse ho flashato qualcuno qua sopra Diamo un occhio Anche uno, anche sotto No, vabbè A me l'ha Raga, guarda C'è uno lì sotto, occhio C'è Kino lì sotto Vieni giù, vieni giù Verso di me, Bob Verso di me Ho detto verso di me State calmi State calmi Verso di me Uno alla volta Calmi, calmi, calmi State calmi Non ti muoveri Non ti muoveri Porco Dio, porco Sono qua sotto, eh Sì E' uno lì dietro Esce, esce Da di te Da di te Axio, alla tua finistra S'è un altro Raga, ma Raga, venite qui sopra Raga, qui sopra Non lo facciamo ad essere 10 Stai bene Oh, cazzo Arrivo, arrivo Occhio, perché c'abbiamo gente anche a sinistra Copritemi, copritemi uno davanti a me Uno, davanti a me Copritemi A sinistra A sinistra Non vedo un altro Cado, se riesci Sta buono, sta buono Eccolo lì, uno Spara gli bomb, spara gli bomb Spara gli bomb No, mi scattava, non mi scattava Cado quello Occhio B Manca uno No, raga, sarà tutto a sinistra Dietro l'altro C'è un altro C'è un altro generale Mamma mia, ragazzi Mamma mia che si è avata Sei tantissimo Ora voglio vedere quanto è che lo faccio Qua mi sono scurato Io comunque avrei fatto almeno 13 Almeno Mi sono stati tre lì Allora, te devi andare a fanculo Ma hai rotto il cazzo tutta la serata Che non avevi poche Ma va a fanculo Intanto, guarda Intanto Ho fatto tre persone di quel team Che cazzo mi è tirato sotto? Un 5 Ho pagato per il cazzo Ma bravo, te Mi è tirato a tavolo C'è tutto La mattita è stato Quello in casa No, ho fatto tre persone lì Di quel team Dentro la casa Voi a 13 Minchia, abbiamo fatto gli stassi danni Porco Dio, metà ne ho fatti Grandi, raga Grazie a tutti Io M Grazie.